Allora, ultima performance del professor Orsini, caro Giuseppe Cruciani, voce per favore, musica lenta, per favore, musica lenta, caro Giuseppe, aspetta, aspetta, fatti una domanda e datti una risposta, caro Giuseppe Cruciani, premesso che ti voglio bene, adesso usa le stesse cose che usiamo noi di solito, i stessi argomenti, caro Giuseppe Cruciani, plagio, premesso che ti voglio bene, tu sei un uomo molto intelligente, presa per il culo chiaramente, è infatti vero ciò che affermi, avevo ragione io sulla guerra in Ucraina, le mie previsioni si sono verificate tutte, ma adesso tutte, non esageriamo, comunque lui dice tutte, le mie previsioni, ma che cos'è un meteorologo che prega le sue previsioni, ma che cazzo è? E poi le elenca, per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina, più la guerra andrà avanti, più l'Ucraina perderà territori, non tutta la tua libertà è sprecata, come vedi, e poi c'è una frase sibillina che prego il professor Orsini di spiegare, non occupatevi più di me, altrimenti io dovrò occuparmi di voi, e questo è molto afflittivo, un abbraccio. Ora caro professore, grazie per la musica, non so lei a cosa si riferisce, credo non a cose giudiziari, perché anche lei non sopporta i giudici, noi continueremo a occuparci di lei perché lei è un personaggio pubblico, che devo dire la verità, nella comunicazione sull'Ucraina, sul Medio Oriente, ha una sua influenza, un suo bacino, un suo uditorio, come si dice, uditorio, ebbè è così, è così. Per cui noi continueremo a modo nostro con ironia, con strafottenza, anche qualche volta in maniera dura, come fa lei però, professore, come fa lei, esattamente come fa lei, dando degli stupidi, dei cretini, degli imbecini alle persone semplicemente che non la pensano come lei. Per cui continueremo tranquillamente, serenamente, dall'alto della nostra stupidità, dall'alto della nostra incoscienza e forse della nostra ignoranza, continueremo a occuparci tranquillamente di quello che dice finché lei resterà un personaggio pubblico. Perché stia certo, caro professore Orsini, noi esistevamo prima, esistiamo adesso ed esisteremo anche dopo che lei sarà scomparso dalla scena pubblica. Questo è il punto per la montagna. E questo ti costerà di nuovo un suo intervento. No, no, Orsini contro Sallusti, vai. Io voglio solo aggiungere una cosa del professore, il professore ha moltissimo tempo libero. No, no, questo non credo, no, questo non credo, questo non credo, questo non dico così, non credo. Comunque, Orsini contro Sallusti, ti chiedo con chi stai perché mi viene, è abbastanza evidente. Aspettiamo di sentire. Perché strade di controllo del terrorismo in un consolato? Perché se non dici la prima, non è mai stato dimostrato. Questa è soltanto propaganda, è soltanto propaganda, è soltanto propaganda, è vorrei ricordare a Sallusti. Iniziamo perché lei si ridicolizza già abbastanza da solo. Basta professore, non cominciamo con gli insulti perché levo la parola, se su questo cominciano gli insulti. Ma proprio di lui può dire, lei si ridicolizza da solo e noi non possiamo pigliarmi il culo il professore, guarda che incredibile. Sallusti diceva che dentro il consolato dell'Iran a Damasco c'erano dei terroristi o di gente che fomenta il terrorismo. Ma ci mancherebbe altro. Vorrei fare l'elenco delle stupidaggini che ha detto Sallusti. È ricominciato? L'Ucraina ha guadagnato. Perché sono stupidaggini? Eh sì, ma se... Mamma mia, guardi dottoressa, io non intendo andare avanti in questo modo. Ma sei pagato? Sei pagato dalla berenguera, vai avanti, no? È un gioco delle parti. Sallusti ha detto che l'Ucraina... Sallusti, ma lei non deve andare via, c'è un impegno, se ne vada. Vabbè, senta, professor Ottini, non è che dici che lei quando va via Sallusti. Se mi interrompe di continuo... No, non decido io però... Allora, facciamo così, professore, io non rispondo, mi rifiuto di rispondere. Va bene, però lei non può rispondere. Siccome mi interrompete di continuo... Tra dieci secondi... Siccome mi interrompete di continuo, non rispondo. Allora, non risponda. Allora, si riprenda la parola, la dia Sallusti, io non le rispondo. Tra dieci secondi stiamo andando in pubblicità, e cinquantasette può rispondere benissimo. Vada avanti con Sallusti. Che gioco delle parti, ragazzi, un gioco delle parti incredibile. Ma come si fa a sculacciare dalla dottoressa Berlinguer? Come si fa a sculacciare? Tengo attenzione a dire però la sculacciare che lui potrebbe non capirla e non intenderla in modo corretto. Allora, ieri mi sono... No, sculacciare metaforicamente. Grazie a Cazzo, lo so. Allora, però spieghiamolo. Allora, ieri sera ero ospite, come ha soldi? Perché tu dici che il professore non capisce? Ma no! Tu dici che non capisci il professore. Potrebbe prendere tutta la lettera, che ne sai? Allora, ero ospite di una demissione che fa dritto di nome e rovescio di cognome. Come no? Ma come? C'è la dottoressa Berlinguer. C'è la dottoressa Berlinguer. Grazie a tutti